benvenuti in alla radice delle dipendenze affettive in famiglia in coppia e nei gruppi un podcast della psicanalista laura pigozzi www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it Oggi parleremo finalmente dell'amore possibile perché naturalmente tutta questa ricerca che ho fatto sull'amore tossico era per arrivare a sgombrare il campo e cercare di capire come è un amore possibile. Allora l'amore parto ancora sempre da un film perché sapete che sono un'appassionata di film e di romanzi e di libri. C'è un film francese del 99 che si chiama Un liaison pornographique che già nel titolo è ossimorica la faccenda perché legame pornografico un legame pornografico naturalmente in italiano è stato tradotto diversamente ma il titolo francese Un liaison pornographique è molto interessante c'è un legame pornografico. Ora che cosa succede in questo film? C'è una cosa molto semplice e molto significativa cioè il protagonista tronca la relazione al momento in cui questa relazione con questa donna è al suo zenith, è al suo apice quando sta per nascere un legame relazione, cioè un coinvolgimento affettivo e cosa le dice per chiudere questa relazione? Le dice finiremo per, se continuiamo, finiremmo per detestarci, non ci rimarrà che il ricordo di questa perfezione, allora tanto vale lasciarci. Quindi che cosa succede? Qual è l'amore impossibile? Perché questo è un amore impossibile, no? Perché non non si dà corso all'amore che sta sbocciando. L'amore impossibile è quando si cerca la perfezione. In realtà l'amore impossibile, questo è un tipico meccanismo del serial lover di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, no? Che cosa fa il serial lover? In realtà ripete degli schemi, in realtà è un conformista, è uno schiavo della sequenza, non è uno spirito del libero amore, è più fedele alle repliche che non un inventore dell'amore. Allora, l'amore possibile, che non è questo, e questo attraverso la pornografia, diciamo la pornografia, attraverso l'incontro sessuale, cioè del corpo, stava per nascere un legame, un legame diverso, ma lui dice no, perché qui siamo, abbiamo raggiunto il nostro massimo, il nostro culmine, la nostra perfezione. Allora diciamo che, quindi, l'amore diventa impossibile quando vuole essere perfetto. Allora l'amore possibile è quando si riesce a tollerare l'imperfezione. L'imperfezione è anche, come dire, l'impossibile armonia che l'amore è. È un'ambivalenza l'amore ed è difficile da tollerare perché noi vorremmo cose chiare. Allora io apro questo capitolo nove del libro Amori tossici proprio con una citazione di un amico. Un amico, siamo, la situazione è questa, siamo al ristorante e siamo due coppie di amici. Tra l'altro questa coppia di amici è una coppia di amici recente e dunque io in quell'occasione siamo a questo tavolo di ristorante in montagna con un bellissimo panorama davanti, stiamo mangiando delle cose tipiche montane di una persona che fa anche le sue, ha le sue mucche, insomma i formaggi suoi, quindi il pranzo naturalmente tu non lo puoi ordinare che ti porta lui quello che ha deciso di portare. Insomma quelle tipiche situazioni da domenica, infatti è una domenica a mezzogiorno, si vede il lago in lontananza, mangiamo questi gnocchi al formaggio stupendi, chiacchieriamo amabilmente, sorseggiamo il nostro vino e a un certo punto io dico sì, sto concludendo un libro sull'amore. E lui, il lui dell'altra coppia, parlando di sua moglie dice, io penso di amarla perché lei non mi ama nel modo che vorrei e se lo facesse sarai morto, sono innamorato di questo non sapere. Io rimango impietrita, affissa per così dire a queste parole perché mi sembrano delle parole di una bellezza, di una verità. Intanto ci tengo a dire che quest'altra coppia non era una coppia di colleghi, cioè non erano psicanalisti, cioè non erano persone che avevano come dire in qualche modo riflettuto teoricamente o teoreticamente sulla questione. Erano, sono due persone che fanno due lavori normalissimi. Quindi eh questa diciamo questa questa sua eh definizione mi ha mi è sembrato veramente un po' il cuore di un amore possibile, cioè di un amore che non ha bisogno del nostro bisogno, scusate il gioco di parole, non ha bisogno del nostro bisogno di sorveglianza. Quindi l'accettare di essere amato in un modo imprevisto, sottrarsi alla macchina infernale del controllo amoroso. Ecco mi è sembrato meraviglioso questo e gli ho chiesto di poterlo citare nel libro, cosa che lo ha reso molto contento e molto felice. Allora eh questo non saputo, questo non sapere come l'altro ci ama oppure sapere che non ci ama come noi vorremmo. È ciò che ci rende liberi, curiosi, che ci può far meravigliare. È proprio l'esogamia. Capite? L'esogamia non è solo prendersi qualcuno del villaggio vicino, qualcuno che non somiglia alla mia famiglia, qualcuno di imprevisto, ma è proprio un'esogamia interiore. Cioè io accetto di non essere amata come vorrei. Questo ha del miracoloso, no? Questi due signori hanno quattro figli che fanno cose anche molto belle. Uno dei loro figli l'ho anche conosciuto. Quindi è bella questa cosa. Questi quattro figli sono in giro per il mondo. Ecco questo ci tengo a dirlo. Non è una coppia plus materna, è una coppia che ha messo in condizioni i figli di andare. Allora è l'incontro tra due mondi diversi dove tu non controlli il mondo dell'altro. Ogni volta che c'è il controllo c'è una tossicità. A proposito della esogamia vorrei fare anche un altro esempio che riprendo nel libro anche. Cioè un giorno ho fatto una conferenza ad opera all'inizio di quest'anno del ventitré eh con Don Burgio che è il della comunità Kairos eh che si occupa appunto di minori in carcere e e parlavamo di ragazzi. Alla fine di questa conferenza c'erano due musicisti che io conoscevo prima per altri motivi eh un chitarrista jazz e una violoncellista classica eh Andrea Rotoli e Francesca Gatto è anche giusto dire i loro nomi. Questi due musicisti quindi quanto di più diverso si poteva immaginare hanno deciso di collaborare insieme in una scuola di musica per ragazzi e quindi è come dire si sono incontrati hanno fatto incontrare le loro sonorità suonando insieme per un progetto sociale rivolto ai giovani. Questi due musicisti li abbiamo chiamati per aprire e chiudere la conferenza e naturalmente eh io sapevo no che poteva essere un azzardo perché chi si occupa di musica sa che non c'è niente di più distante tra un musicista classico e un musicista jazz no? Peraltro c'è da discutere anche su questa informazione però normalmente nella nel pensiero normale si pensa a questo. Allora hanno creato una sonorità così curiosa che è stata veramente interessante e io alla fine della loro performance ho proprio detto in pubblico ecco questa è la musica di un amore possibile quindi di un amore che è imprevisto, imprevedibile, nuovo, inventivo che fa incontrare due universi così diversi. Terzo punto della questione del dell'amore possibile è che l'amore umanizzato, l'amore possibile l'amore umanizzato, l'amore che umanizza eh non quello che distrugge l'umanità di uno dei due e di tutto o di tutte e due perché anche il carnefice ha un'umanità sgretolata. L'amore umanizzato, l'amore umanizzabile, l'amore che umanizza è anche sempre un amore sociale. Cioè è un amore che si può collettivizzare in cui si mettono insieme gli amici, in cui si fanno dei nuovi amici, in cui ci sono dei testimoni un po' come nel matrimonio. Cosa fanno i testimoni? Mica sono lì solo a testimoniare dell'amore tra i due. No, sono lì a testimoniare, a fare, a prendere il posto del mondo eh? A prendere il posto del mondo. È il mondo che c'è lì nei testimoni eh? Eh questa testimonianza del mondo, questo essere un amore del mondo e non essere una sfera chiusa. La sfera chiusa è l'ambito del seduttore, del capo, l'ambito del fantasma, no? L'ambito della mamma e del bambino, dell'infantilizzazione, l'ambito del seno, no? Che è una sfera chiusa. Eh invece l'amore umanizzato è sempre aperto, è sempre sociale. E concludo questa questione dell'amore possibile dicendo che l'amore possibile è come una membrana cellulare che scambia eh? Esogamico e endogamico, simile e dissimile, scambia tra dentro e fuori. Ma la figura, questa volta una figura matematica, topologica che voglio evocare qui è quella che di cui ci ha parlato l'account del nastro di Moebius. Il nastro di Moebius ehm è un nastro in cui le due estremità quando si congiungono le due estremità si dà un giro in modo che si si girino. Ora se questa questo è un nastro di Moebius è fatto in modo per cui se una formica percorre una ban la banda del nastro entra dall'esterno all'interno dall'interno all'esterno senza cambiare lato. Allora questo mettere in collegamento l'esterno con l'interno che Lacan usa come il nastro di Moebius per dire che l'inconscio dell'uomo è anche estimo cioè interno ed esterno è in collegamento che poi come diceva Freud ogni psicologia individuale è anche una psicologia sociale. Questa questione che l'in che diciamo l'inconscio non è come dire nel fondo delle viscere ma è nella gestualità di un corpo che si muove nel mondo che ha relazioni, l'inconscio è dovunque, è dentro e fuori, è nello scambio tra dentro e fuori. Allora questo nastro di Moebius mi è sembrato una bellissima metafora che io potevo utilizzare anche per dire dell'amore possibile. Allora ho immaginato anziché la formica che che percorre il nastro di Moebius ho immaginato i nostri due ballerini di cui avevo parlato in qualche puntata precedente nella puntata dell'amore del confine ho immaginato i nostri due ballerini che ballano proprio sul nastro di Moebius e quindi che ballano non solo con una distanza tra di loro, non solo con ognuno fa delle variazioni e delle improvvisazioni ma anche ballano percorrendo l'interno e l'esterno in continuità. La grazie. Avete ascoltato un episodio di Alla radice delle dipendenze affettive, un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. Segui il podcast e i nuovi episodi. Scrivi a Laura Pigozzi. Tutte le informazioni in www.laurapigozzi.it